C'è una cosa che del primo Metal Gear Solid è rimasta nell'immaginario di tutti per i motivi sbagliati, ossia tantissime cose di MGS1 sono rimaste nel cuore degli appassionati per motivi belli, questa è rimasta sia per motivi belli che per motivi un po' più controversi, un po' più disfottò, eppure nessuno di noi cambierebbe questa cosa con nessun altro al mondo perché lo vogliamo bene, perché il gioco era così, perché non riusciremo a immaginarlo in nessun altro modo, e la cosa di cui sto parlando è il doppiaggio in italiano di Metal Gear Solid. Amiche e amici, bentornati su Secondo Tava, io sono Stefania, se preferite Tava, e come vi dicevo nell'introduzione oggi voglio parlare con voi del doppiaggio italiano di Metal Gear Solid, con una nota particolare, spesso quando spuntano video dove si parla di questo dettaglio, dettaglio poi del gioco, che è fondamentale in realtà perché un gioco con quell'approccio cinematografico, con un doppiaggio che in larghi tratti era migliorabile, diciamo che non era esattamente una cosa leggera, però spesso i video si concentrano soprattutto su quanto fosse assurdamente brutto in alcuni frangenti, sempre se ancora vivo, la mia frequenza è 140.96 ed è dedicata al salvataggio dei dati, non dimenticarla, sei stato un idiota a venire qui, stupido uomo, ho visto un PSG1 nell'armeria al secondo piano interrato della rimessa dei cani. Io voglio andare the other way around, come si suol dire, quindi voglio fare una cosa opposta e voglio raccontarvi le cinque voci che più mi sono rimaste nel cuore all'interno del cast del primo Metal Gear Solid. Una cosa va ricordata, c'erano stati un po' di tumulti sul doppiare il gioco perché erano stati individuati dei doppiatori del gioco localizzato da Halifax, oggi Digital Brothers, poi ci fu la scelta di far doppiare l'opera a Londra nei leggendari Abbey Road Studios e quindi dovete rifare il casting praticamente con artisti che si potevano recare a doppiare direttamente a Londra, quindi dovete un attimo rimettere insieme i pezzi. I pezzi che hanno rimesso insieme sono gli artisti che abbiamo sentito nel cast di Metal Gear Solid 1. Nominerò quindi cinque, le mie cinque voci preferite di MGS1, quelle che mi sono rimasti più nel cuore per un motivo o per un altro, sentitevi liberi qua sotto di dire quali sono stati i vostri, vi farò anche una menzione speciale non in classifica. Andiamo subito con la quinta posizione. Ma tutto questo è finito, non voglio più essere complice di un omicidio di massa. In parte sì, la Hunstack si trova in guai finanziari molto peggiori di quanto credessi. Per che cosa combatteva lei? Per che cosa combatto io? Tu per cosa combatti tu? Agli altri possiamo anche essere sembrati un fratello e una sorella felici, ma ogni volta che la guardavo vedevo gli occhi dei suoi genitori che mi fissavano. Quinta posizione in tutta dedicata a Massimo Marinoni, che dia della voce ad Al Emerick, Otacon, e che dia della voce a Gray Fox. Lo so cosa state pensando, lo sto pensando anch'io. Questo significa che Marinoni ha parlato con se stesso nella celebre scena nel laboratorio, perché c'era Otacon che parlava con il ninja, si rispondevano, e quindi era Marinoni che parlava con Marinoni. Ci sono un sacco di scene dove a me ti ascenti un po' così, far ridere detto da me, però io non sono una doppiatrice, non mi faccio pagare come doppiatrice. Accenti un po' così, sia nell'intonazione delle frasi che proprio in come sono accentate determinate parole. In queste cose era migliorabile, però va assolutamente riconosciuto che Marinoni ha dato, secondo me ha dato una buona sfumatura alla personalità nerd di Al, e la scena in cima al Rex, sia che lo sentiate al Codex, sia che sia lì in presenza, è riuscito a farmi emozionare, non era assolutamente facile. Quindi mi è rimasto particolarmente nel cuore. E va detto che è riuscito, impostando la sua voce in un modo che fosse consono a un cyborg ninja, a rendere merito, in un certo senso, a quella scena di Gray Fox. Quindi lo volevo mettere nella mia top 5. 6 proiettili, più che sufficienti per uccidere qualunque cosa si muova. Questo è il territorio di Raven. Ho capito, nessun problema. Ora giocheremo Snake, giocheremo a scoprire che uomo sei veramente. Ogni tuo passo poggia sulle carcasse dei tuoi nemici. Le loro anime ti perseguiranno per sempre. Non avrai mai pace. Quarta posizione per Giancarlo Ciccone, che è stato uno dei tuttofare del cast, perché interpretava sia Revolver Ocelot, che Vulcan Raven e anche alcuni soldati genetici. Il fatto che interpretasse sia Ocelot che Raven fa in modo che anche lui avesse dei dialoghi con se stesso. Mi è piaciuto tanto nell'interpretazione, dove l'ho trovato molto più naturale, di Ocelot, che in quella di Raven, dove si sforzava un po', nonostante battute tipo... Difettuce. Ecco. Ciò nonostante quell'aria da doppio giochista, astuto, da lingua biforcuta, è riuscito a renderla. E per me, nonostante lo straordinario lavoro di Patrick Zimmerman, che è la voce inglese di Shalajaska, per me lui ha la voce di Ocelot. Io quando ho sentito Giancarlo Ciccone doppiare da altre parti, che so, in Discovery Channel, per me quello non era Giancarlo Ciccone, era Ocelot che parlava nel documentario, che parlava in una pubblicità. E questo vuol dire tanto. Da Foxhound e il corpo speciale Next Generation erano stati convocati qui per il lancio di prova di una finta testata atomica. Fino a oggi pensavo di sì, ma ora ho capito. La verità è che ho semplicemente paura di me stessa, di prendere delle decisioni che riguardino la mia vita. Snake, per favore, salvati. Continua a vivere e a credere nelle persone. E non dimenticarmi. Nella terza posizione, e anche questa è una scelta molto di cuore, metto Ilaria Delia, che ha dato la voce a Meryl Silverburg, era giovanissima quando ha lavorato a questo progetto. e oggi lei fa la regista sceneggiatrice, premiata come regista sceneggiatrice, analista di testi per il cinema. Quindi sta più dall'altra parte della videocamera, dall'altra parte del microfono, magari rispetto a quando ha lavorato qualche tempo fa. E devo dire che, anche nel suo caso, a parte qualche intonazione un po' così, quella è il fatto che si sentisse che abitava in Inghilterra, perché nell'inglese era proprio perfetta, marcata, si sentiva lo stacco tra quando pronunceva qualcosa in inglese e quando pronunceva qualcosa in italiano. Devo dire che la sua interpretazione di Meryl l'ho trovata molto in tono, l'ho trovata molto ben accordata al personaggio, all'età del personaggio, piuttosto naturale, con pochissime eccezioni l'ho trovata piuttosto naturale, mi è piaciuto il modo in cui è riuscita a rendere un po' quell'aria di flirt che c'era con Snake in alcune conversazioni al code e che ha reso merito anche alla famosa scena, quella con Wolf, dove a me è piaciuta. Quindi devo dire che è una delle voci a cui sono rimasta assolutamente più affezionata e che ho trovato davvero adatta per il personaggio. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. Una sentinella a destra e un'altra a sinistra. Sono armati con armi automatiche e bombe a mano. Ascolta, Meryl. Tutti si sentono male la prima volta che uccidono qualcuno. Purtroppo uccidere è una di quelle cose che diventano più semplici con la pratica. In guerra si manifestano tutte le emozioni peggiori dell'uomo. Tutti suoi lati peggiori. È facile dimenticare che cos'è il peccato in mezzo a una battaglia. È tanto difficile da credere. La guerra non è una buona ragione per terminare un'amicizia. La seconda posizione è tutta per lui, per il mitico Alessandro Ricci che potete dirmi quello che volete ma per me lui è la voce di Solid Snake. Ancora più di David Ather perché ovviamente quello che memorizzi da bambino è una cosa che ti rimane a vita. Per me quella è la voce di Snake. Quando l'ho sentito in altri giochi tipo quando faceva il riccone in Spyro 2 per me lì era Snake che parlava come il riccone perché era proprio la sua voce. Non era facile e mi pare che in qualche intervista l'avesse detto perfino lui di non aver trovato facile interpretare questo personaggio con tutti i limiti che c'erano poi all'epoca per doppiare che non è come adesso che tu magari ventiti davanti e sai di cosa stai facendo aveva un sacco di battute e Snake è un personaggio dalle mille sfaccettature quindi doveva dare quel tono da duro ma anche con le sfaccettature un po' più umane quando lui abbassa lo scudo. Non si è riuscito sempre alla perfezione però ha fatto un buon lavoro e Snake non è mai uno di quei personaggi per cui dite oddio ma come sta parlando non vi capiterà mai durante il gioco ed essendo il protagonista questo è tanta roba. Anche in alcuni dialoghi dove lui è un po' più addolorato tipo alcuni scambi con Naomi o cose relative a Gray Fox o in alcuni casi quando parla di Meryl mi è piaciuto per il modo in cui è riuscito a tenere sia la sua voce da duro sia quel tremolio quella vibrazione che diceva che dentro c'era qualcosa che si stava muovendo quindi per me promosso gli voglio tanto bene come faceva di Snake. Nostri fratelli da lunghi anni finalmente io e te ci incontriamo il fratello di luce e il fratello d'ombra tu ed io siamo gli ultimi figli rimasti di Big Boss sono io davvero nel Medio Oriente non cacciamo le volpi Fox cacciamo gli saccoleri invece dei branchi usiamo delle priere e regali in prima posizione non poteva che esserci Andrea Piovane Andrea Piovane straordinario doppiatore di Liquid Snake di Donald Anderson e mi sa anche di qualche soldato genetico che ha fatto un lavoro di Master Miller anche attenzione che ha fatto un lavoro maiuscolo nei panni di Liquid sia nel parlare impostato quando c'era da parlare impostato non voglio fare spoiler perché non ci avesse giocato però mi state capendo sia nello sfotto nelle battute nel far percepire l'odio che lui provava per suo fratello ha fatto veramente un lavoro maiuscolo io penso che sia probabilmente il doppiatore che mette d'accordo tutti in Metal Gear Solid infatti è un doppiatore tutt'oggi di spessore Andrea Piovane non penso di aver mai sentito nessuno dire di non aver apprezzato la sua interpretazione di Liquid Snake tra l'altro è riuscito anche a rendere molto bene quel colore della voce alla Cam Clark che o Clark come volete dire che è il doppiatore inglese di Liquid se voi guardate proprio il tipo di impostazione le esagerazioni e quant'altro assomiglia molto come è usato il timbro Piovane a come è usato il timbro Clark quindi ha fatto un lavoro assolutamente da chapeau per me soprattutto con i mezzi che c'erano all'epoca per doppiare i videogiochi come dicevo quindi la prima posizione è tutta sua la menzione speciale la menzione d'onore la faccio questa è assolutamente in attesa la faccio per Benedetta Ferraro che è la voce di Nastascia Romanenko voi direte Stefania che cazzarola stai dicendo probabilmente avete ragione ma perché lo dico perché Benedetta Ferraro è una doppiatrice che ha fatto un sacco di documentari su Discovery Channel quindi è una doppiatrice perfetta per parlare impostato perché ha quella voce pulita che ti spiega le cose considerando che la stragrande maggioranza delle conversazioni con Nastascia Romanenko erano didattiche perché magari ti spiegava cos'erano i trattati start che cos'era la distruzione la distruzione mutua assicurata come funziona la teoria del deterrente cosa è successo nel 1986 tutto questo tipo di cose quando lei te lo spiegava parlando impostato ci stava ovviamente era molto più spigolosa quando magari doveva parlare di cose un po' più vicine a se stessa esempio quando ti parla di cosa è successo alla sua famiglia a Pripyat si sente che è troppo impostata o quando che ne so Snake riusciva a riunirsi con Mary lei ti diceva in un modo tipo gelido hai trovato la ragazza bene proprio come si sentiva che stava leggendo la battuta ma quando stava leggendo le battute per spiegarti i temi veri politici sociopolitici geopolitici legati alle vicende di Metal Gear Solid allora era la voce perfetta quello era il doppiaggio perfetto perché era letteralmente Discovery Channel che ti spiegava il deterrente nucleare quindi per me da questo punto di vista è sì è mi rimasta nel cuore fatemi sapere ovviamente quali sono le voci che vi sono rimaste più nel cuore e sentitevi liberi di dire anche quelle che vi sono rimaste meno nel cuore ovviamente sempre nel rispetto delle persone che hanno lavorato al gioco che ci hanno messo il loro poi come è andata è andata mi raccomando ma lo sapete già io intanto vi ringrazio per aver visto il video fino a qui sono Stefania se preferite Tava ci vediamo presto sul canale di Secondo Tava di Secondo Tava